È stato siglato oggi l'accordo tra i sindacati e la direzione dello stabilimento FPT Industrial di Foggia, che prevede il sedicesimo turno per tutti i lavoratori del primo e secondo turno. A partire dal 3 settembre, la nuova rotazione prevede il sabato a scorrimento sul primo turno. L'eventuale prestazione lavorativa, nel riposo programmato, sarà considerata giornata di lavoro straordinario e retribuita, come previsto nel contratto collettivo specifico di primo livello. A tutti i lavoratori interessati sarà corrisposto un importo avente carattere eccezionale e non ripetibile, pari a 16 euro l'orde sulla presenza, per un massimo di 12 mesi continuativi. Questo tempo sarà utile per attivarsi insieme all'azienda presso gli organi competenti, per garantire un sistema di trasporti adeguato alle turnazioni. Le parti si incontreranno nel mese di dicembre per esaminare la possibilità di attuazione della rotazione sui tre turni. Viva soddisfazione è stata espressa dalla FIMCISL attraverso la segretaria generale Millicampo di Pietro, che ha evidenziato come oggi il trend dello stabilimento sia positivo ed in continua crescita, tanto da avere avuto negli anni numerose stabilizzazioni. Lo stabilimento foggiano, grazie alla grande professionalità dei suoi dipendenti, ha permesso di consolidare ed aumentare l'inserimento di circa 150 lavoratori, di cui 73 stabilizzazioni sono attese per la fine di agosto, che si aggiungono agli oltre 200 assunti negli ultimi anni. La Campo di Pietro ha sottolineato l'importanza della crescita dell'azienda e il mantenimento dei posti di lavoro a testimonianza che gli sforzi del passato sono serviti al raggiungimento degli obiettivi. La conferma del trend positivo permetterà di avere risultati simili in futuro.